Tutti in coda lungo la vecchia Lecco Ballabio, anche questa mattina. La buona notizia è che il cantiere, lungo la SS36 Dir, sarà chiuso in serata, quella cattiva che probabilmente verrà riaperto lunedì. Ma il condizionale al momento è d'obbligo. Il maltempo annunciato nei prossimi giorni, ma soprattutto il pressing dei sindaci della Valsassina, hanno dato un primo risultato. Così, quantomeno, nelle prossime ore ai disagi della neve non si aggiungeranno quelli dell'impossibilità di percorrere a scendere da Ballabio la nuova arteria. La decisione di chiudere la corsia a sud, annunciata dall'ente strada e solo poco prima dell'apertura del cantiere, si è resa necessaria dopo l'incidente accaduto lo scorso settembre, quando un camion uscito di strada ha perso il carico di bottiglie, danneggiando le protezioni a lato della carreggiata. Un mese di lavori, dal 26 febbraio al 30 marzo, esclusi i weekend. Al momento confermati, salvo questo breve stop. Ma non tutto è perduto. In realtà, nell'incontro di ieri abbiamo chiesto ad Annas di mettere in campo una serie di provvedimenti, spiega Corrado Valsecchi, assessore alla viabilità del Comune di Lecco. In primis, la possibilità di riaprire la strada tutte le sere e non chiuderla fino alle 9 di mattina, così da evitare gli incolonamenti più pesanti nelle ore di punta. Oppure istituire il senso unico alternato sulla strada nuova o in alternativa, con dei movieri, su quella vecchia. L'ingegner Salvatore si è impegnato a valutare le proposte e a breve ci farà sapere. Quanto alla riapertura del cantiere lunedì mattina, dipenderà dalle condizioni meteo. Intanto Valsecchi smorsa le polemiche sulla necessità di chiudere l'intera carreggiata per un mese per un cantiere poco più lungo di un centinaio di metri. Hanno rimosso i guardrail e devono abbattere una parte di muro. È una questione di sicurezza. Se qualcuno dovesse uscire di strada in quel punto, mentre scende, finirebbe in un dirupo. Un rischio che certamente non possiamo correre.